Ciao e benvenuto in questo nuovo video sulla programmazione per principianti. Oggi è il secondo episodio e nell'episodio precedente abbiamo parlato di che cos'è un linguaggio di programmazione e abbiamo creato il nostro primo programma insieme. Ti metto il link qui vicino per andarlo a vedere. Oggi vediamo altri concetti importanti per imparare a programmare. Sono dei concetti trasversali che attraversano tutti i linguaggi, che vengono utili in qualsiasi contesto proprio perché sono di base e trasversali. Ma andiamo subito al solo. I tre concetti di cui parliamo oggi sono che cos'è un'istruzione, come raggruppare istruzioni in quelle che sono le procedure o funzioni e che cos'è una variabile. Questi tre concetti sono i mattoni fondanti della programmazione. Certo, ce ne sono altri, ma è proprio a partire da questi che possiamo creare un programma vero e proprio, per quanto anche semplice. Per procedere e fare esattamente quello che io faccio nel video, è necessario aver installato l'SDK del .NET, che si può vedere come fare nel mio video precedente, l'introduzione alla programmazione, e scaricare Visual Studio Code, che è un editor di testo evoluto, si dice IDE, Integrated Development Environment, quindi un ambiente di sviluppo, che contiene tutta una serie di funzionalità per agevolare la scrittura del codice e il test dei programmi. Per scaricarlo lascio anche il link sotto, si può googlare Visual Studio Code, si scarica la propria versione per Windows, Mac o Linux. Bene, andiamo subito nel computer e vediamo gli argomenti di oggi. Apriamo Notepad per prendere qualche appunto. Benissimo, allora abbiamo detto istruzioni. Che cos'è un'istruzione? Oppure Statement, ok? Quindi un'istruzione è un qualcosa che possiamo fare nel nostro programma. È proprio il mattone fondante di quello che è un programma. Un programma è composto da tanti istruzioni. Le azioni, quindi, che possiamo fare, che cosa sono? Beh, si tratta di, lo mettiamo qui, dichiarare variabili e dopo vediamo che cos'è una variabile. Dichiarare variabili. Possiamo assegnare valore, valori alle variabili. Possiamo chiamare metodi o procedure o funzioni. Ok? Apriamo un pochino più qui in grande. E poi, cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare delle, ci sono delle particolari tipologie di istruzioni che ci permettono di prendere delle decisioni. E sono i cosiddetti if statement, le istruzioni if, le condizioni se. Quindi in questo punto del codice prenderemo una decisione del tipo se un valore è più grande o più piccolo di zero, allora faccio una cosa, altrimenti ne faccio un'altra. Vediamo che cosa sono le variabili. Le variabili rappresentano all'interno dell'informatica, di un linguaggio di programmazione, uno spazio della memoria del PC. Avete presente quella che diciamo abbiamo 16 GB di RAM nel nostro PC, ne abbiamo 32, ne abbiamo 8, ne abbiamo 4 nel telefono e così via. Ecco, una variabile è un modo per riservare uno spazietto all'interno di tutta questa memoria riservato al nostro programma. All'interno di questa memoria, quindi della RAM, qua stiamo parlando di RAM, ok? Non stiamo parlando di disco fisso, di hard disk, stiamo parlando di RAM, di spazio nella memoria RAM, che vogliamo riservare per il nostro programma, per uno specifico scopo. Quindi una variabile, ok, rappresenta uno spazio in memoria. Perché mi è utile rappresentare uno spazio in memoria? Perché voglio memorizzarci dei valori e si dice assegnare. Perché li voglio utilizzare in un secondo momento. Ad esempio, voglio leggere dei numeri dall'utente, immaginiamo un programma che fa una calcolatrice, voglio leggere gli addendi di una somma, quindi salverò un addendo in una variabile, un addendo in un'altra variabile, e poi li sommerò per ottenere appunto la somma. Li voglio utilizzare in un secondo momento, quindi leggere, ok? Le variabili hanno una, di solito, ci sono due grandi categorie di linguaggi, linguaggi tipizzati e non tipizzati. I linguaggi tipizzati, le variabili, sono per i linguaggi tipizzati specifiche per un tipo di dato. Cioè, in una determinata variabile, decido a priori se voglio contenere del testo, quindi tipo delle parole, dei caratteri, o se voglio ottenere dei numeri. E dovrò essere specifico se voglio dei numeri interi, dei numeri con virgola e così via. Quindi, una variabile rappresenta uno spazio di memoria che posso utilizzare a mio piacere per scriverci o recuperare dei valori, e le dichiaro, per i linguaggi tipizzati, per uno specifico tipo, testo, numero. Nei linguaggi non tipizzati, nei linguaggi non tipizzati, non è specifico per il tipo di dato. Ok? Quindi, in un linguaggio tipizzato, posso utilizzare uno spazio di memoria, in un certo momento, una variabile, in un certo momento, per metterci del testo, e nel momento successivo per metterci dei numeri. Questo ha dei pro e dei contro che non sono lo scopo di questo video. Infine, vediamo un altro concetto, il nostro... Infine, un altro concetto che dobbiamo vedere in questo video sono i cosiddetti metodi. Metodi è un nome un po' più generico che raggruppa due concetti, una procedura o una funzione. Sostanzialmente, che cos'è un metodo? Un metodo raggruppa delle linee di codice per essere riutilizzate. È come dare un nome a un gruppo, è esattamente dare un nome a un gruppo di righe di codice per essere poi riutilizzate e non doverle ripetere e scrivere da capo. Se io... Se per esempio io scrivo delle righe di codice che mi invertono le lettere in una parola e voglio riutilizzare questa funzione, queste righe di codice, in vari punti del mio programma, non dovrò riscriverle ogni volta, ma le posso prendere, raggrupparle, dargli un nome del tipo inverti stringa, ok? E ogni volta che ne ho bisogno le vado a riutilizzare passandogli come parametro, ok? Esattamente come facciamo in una funzione matematica dove abbiamo i parametri, di solito la x, in un linguaggio di programmazione ne abbiamo tanti, ok? Posso riutilizzare questo metodo per invertire ogni qualvolta ne ho bisogno una stringa senza dover ripetere tutte le righe di codice. Vediamo la distinzione. Che cos'è una procedura? Una procedura è un... sono delle righe di codice, o è quindi un metodo, ok? che non restituisce un risultato. Un esempio di procedura potrebbero essere delle righe di codice che cambiano il colore di sfondo del nostro programma. Queste righe di codice non ci danno un esito, quindi per esempio non invertono dei caratteri in una stringa di testo, non fanno somme o operazioni matematiche, ma semplicemente agisce su un qualcosa, e quindi sono delle righe di codice che non ci danno un risultato e vengono chiamate procedure. Invece le funzioni sono delle, contrariamente, sono delle righe di codice che restituiscono un risultato. Possiamo immaginare quindi tutte le operazioni, tutte quelle funzioni che noi scriviamo che fanno, per esempio, delle operazioni matematiche, ok? Oppure delle... tutte quelle operazioni che intervengono su parti di testo e ce lo restituiscono, trasformato, quindi dove abbiamo un po' più esplicito quello che è l'input e quali sono gli input e l'output soprattutto delle nostre righe di codice. Vediamo adesso tramite dello pseudocodice, cioè delle righe di codice pinto, non è un linguaggio, nessun linguaggio in particolare, ma è un qualcosa che ci assomiglia, degli esempi pratici di questi tre oggetti informatici, istruzioni, variabili e metodi. Quindi un'istruzione, per esempio, dichiarare variabile, potrebbe essere un qualcosa di questo tipo. Quindi scriviamo dichiarare variabile e lo mettiamo anche in, lo scriviamo qui, pseudocodice che se no qualcuno potrebbero fischare le orecchie o venire di mal di pancia vedendo certe scritte. Allora, è così è chiaro che è il pseudocodice. Per dichiarare una variabile, ok, potrei fare int numero uguale zero. Qui, o meglio, facciamola un po' più semplice, int numero. Io qui ho dichiarato in pseudocodice uno spazio di memoria, cioè ho detto al computer che voglio riservare uno spazio di memoria per memorizzare un numero intero. Quindi, qui dentro, secondo i linguaggi tipizzati, potrò mettere solo dei numeri interi. Come si assegna un valore a una variabile? Tipicamente, in pseudocodice si scrive così numero freccia 5, il che significa che io sto mettendo il 5 all'interno, sto mettendo il valore 5 all'interno della variabile chiamata numero. Nei linguaggi di programmazione veri e propri non si usa questo simbolo, ma si usa numero uguale 5. Ci tengo a fare questa importante distinzione perché all'inizio dobbiamo comprendere bene che questo simbolo di uguale non significa che la variabile numero è uguale a 5, ok? Ma stiamo dicendo che metto il valore 5 dentro alla variabile numero. Benissimo. Quindi, per esempio, numero 6, sto assegnando il valore 6 alla variabile numero. In un linguaggio vero e proprio molto probabilmente scriverei qualcosa di questo tipo. Questa è l'operazione di assegnazione, cioè prendere un valore e metterlo all'interno di una variabile. Posso fare la stessa cosa per le variabili che contengono del testo, che di solito hanno una tipologia in una staganda immaginata di linguaggi indicata con string, e io metto parole. E poi faccio parole, assegno, le parole che voglio. In questo momento, qui, ho messo le parole che voglio, la stringa di testo le parole che voglio, all'interno della variabile parole. In un linguaggio vero e proprio, molto probabilmente, scriverei qualcosa del tipo parole uguale le parole che voglio. Ok? Quindi, qui si trattava di calcchierare variabili, e qui stavamo parlando di assegnare. Questi sono tutti esempi di assegnazioni. Vediamo in pseudocodice cos'è, com'è fatto pseudocodice. Vediamo com'è fatto un metodo. Un metodo in pseudocodice sarà qualcosa, mettiamo, e allora, mettiamo qualcosa di questo tipo e benissimo sarà inverti lettere oppure cambia sfondo. Ok? Queste sono delle chiamate ai metodi. chiamate. Quindi io sto richiamando un metodo già definito. Invece la definizione di un metodo potrebbe essere qualcosa del tipo int somma int a int b e tra parentesi mettiamo facciamo restituisci a più b ok? Quindi se io questo sto dichiarando un metodo che si chiama il cui nome è somma e che restituisce un valore intero che se ho fatto tutto giusto dovrebbe restituirmi la somma di a e b in questo caso è una funzione perché abbiamo un valore di uscita invece magari il mio cambia sfondo sarà semplicemente in pseudocodice definito così nuovo e gli dico colore ok vado a dire sfondo punto applica colore un qualcosa di questo tipo qui non abbiamo definito anche qui siamo sempre in pseudocodice questa qui è una definizione di un metodo che però procedura ora prendiamo tutte queste nuove conoscenze e applichiamole su un programma vero e proprio allora apro una cartella vuota e con apro windows terminal ok mi metto qui e tramite l'SDK del .NET vado a creare un nuovo programma console per vedere come fare rimando al mio primo video di questa serie dove ho proprio creato questa cosa e spiego come configurare l'ambiente di sviluppo .NET new console crea un impronta per creare una prima versione base base di un programma console i programmi console sono quelli che interagiscono in questa maniera con l'utente quindi con del testo all'interno di quello che viene definito una finestra terminale un terminale con cui interagire allora io qui adesso apro il la cartella con visual studio code ok che è un ambiente di sviluppo estensibile gratuito e diciamo così multifunzione che viene perfetto anche in questo contesto allora qui vediamo la cartella con il nostro programma il nostro programma è facilmente riconoscibile in questo momento perché è all'interno del program .cs e qui dentro questo è abbiamo ok abbiamo il nostro programma in C Sharp e possiamo vedere già un po' di cose che cosa vediamo? beh abbiamo parlato di istruzioni quindi questa è una istruzione ok questo lo mettiamo in verde quindi questa è l'istruzione console.write line quindi andiamo a scrivere una riga di testo hello world nella console ok e questo è un metodo lo vediamo perché in C Sharp abbiamo per definire un metodo si si segue questa sintassi quindi void significa che è un metodo che non restituisce nulla quindi una procedura ok il nome main tutti i programmi in C Sharp hanno un punto d'ingresso che si chiama main quindi tutti i programmi iniziano di C Sharp ma non solo iniziano da un metodo che si chiama main e abbiamo dei parametri in questo caso abbiamo come parametro una variabile che si chiama args che sta per argomenti che è di tipo array di stringhe un array è una tipologia di collestione a lunghezza fissa le affronteremo in un altro momento e lo riconosco perché in C Sharp gli array hanno si dichiarano con le parentesi quadre e il tipo di dato è stringa quindi questo qui è un oggettino un metodo è un insieme di righe di codice che prende in ingresso una variabile che si chiama args che contiene un insieme di stringhe possiamo definirla così e che come output sostanzialmente ci dà in C Sharp si dice void non ci dà niente ma agisce e che cosa fa? scrive hello word lo vediamo subito facendo dotnet run qui sotto in questo momento avviene la compilazione e subito dopo l'esecuzione della nostra delle nostre righe di codice se la possiamo fare forza ok dai non me l'aspettavo così lento dai su eccolo hello world abbiamo il nostro programma che è scritto hello world nella console qui sotto andiamo ad applicare i concetti quindi andiamo ad applicare i concetti che abbiamo visto per che cosa vogliamo fare? vogliamo fare un programma lo scriviamo qui tra gli in tra i commenti i commenti in un codice sorgente sono delle righe di codice che vengono completamente ignorate durante l'esecuzione la compilazione e l'esecuzione del programma e servono per segnare degli appunti spiegare dei significati o dei ragionamenti quindi scriviamo qui come commento che cosa vogliamo fare un programma che chiede in input il nome e saluta lo vogliamo fare applicando il concetto di variabile di metodo e ovviamente le istruzioni se no gli statement senza istruzioni facciamo poco allora la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere ci mettiamo all'interno del main e chiediamo all'utente di scrivere il proprio nome per scrivere il proprio nome ci serve una istruzione quindi uno statement dove diciamo scrivi il tuo nome per fare questo utilizzo console.writeline che sono dei metodi del C Sharp che mi permettono di interagire con il terminale quindi queste parti qui e scrivere ciò che voglio scrivere le stringhe che preferisco quindi voglio scrivi istruisco l'utente a scrivere il suo nome mi metto in lettura per leggere quello che scrive l'utente scrivo console.readline console.readline mi permette e cosa fai? mi appoggio qui mi viene la dovrebbe venirmi la descrizione mi dice che legge la prossima riga di caratteri dall'input utente che io siccome non voglio che vada perso ok questo input utente lo voglio salvare in una variabile che contiene del test quindi una stringa e scrivo nome utente do il nome a questa variabile nome utente qui ho scritto male il nome deve essere un minimo significativo per poter spiegare per dare un'idea di ciò che contiene e aumentare la leggibilità del codice quindi dentro nome utente io avrò il ciò che ha scritto l'utente a questo punto non dico più hello world voglio dire hello nome utente lo metto qui in questo momento però così facendo scrivo proprio hello nome utente proprio la stringa nome utente vi faccio vedere se io faccio un dotnet run viene fuori il l'input scrivi il tuo nome dico Michele e viene fuori hello world devo salvare allora salvo il file e faccio dotnet run a questo punto dovrebbe il programma mi dovrebbe chiedere di inserire il mio nome esatto metto Michele hello nome utente perché nome utente così scritto tra i doppi apici per il C sharp significa di prendere letteralmente quello che c'è scritto dentro è un cosiddetto literal cioè prendo senza interpretare quello che c'è scritto all'interno degli doppi apici ma io voglio usare la variabile per utilizzare la variabile non utente quindi leggere quello che c'è dentro nel C sharp la devo comporre in questa maniera in questo modo qui sto utilizzando una funzione che è cosiddetta la string interpolation cioè vado a mescolare variabili e test insieme e con questa sintassi C sharp capisce che gli deve leggere il valore della variabile nome utente e attaccarlo concatenarlo con hello salvo faccio dotnet run scrivi il tuo nome hello michele ok benissimo adesso voglio un attimo arricchire che cosa voglio arricchire il mio programma per utilizzare il concetto di metodo quindi abbiamo visto la variabile nome utente assegno quello che in pseudocodice prima era la freccia verso dal valore alla direzione alla variabile ok e questi sono metodi console.write line sono metodi che sono già presenti nel linguaggio C sharp all'interno di un contenitore chiamato namespace quindi un contenitore chiamato system all'interno di questo contenitore ho tantissimi metodi già fatti dentro il C sharp che in questo caso sto richiamando quello per scrivere sul terminale per crearne uno mio per esempio posso dire saluta è un void gli dico string nome utente apro e chiudo le graffe in C sharp le graffe aprono e chiudono i segmenti di codice prendo questo lo metto qui quindi ho dichiarato un metodo che si chiama saluta che non fa che non restituisce un valore in uscita ma agisce direttamente sulla console scrivendo il nome utente a questo punto devo richiamare devo fare una chiamata a quel metodo scrivendo semplicemente il suo nome e gli passo nome utente per fare static ve lo spiegherò in un altro momento prendiamo per buono questa parola chiave static ok per fare altri esempi vi faccio vedere che che ne so Germano ok saluta Matilde ok in questo modo sto richiamando tre volte questo metodo con dei valori diversi la prima volta il nome utente poi il valore fisso Germano e poi il valore fisso Matilde facciamo un .net run per vedere che cosa succede il programma è partito scrivi il tuo nome metto Michele per Racin e abbiamo esattamente i tre saluti il primo con il mio nome e gli altri due con i valori fissi che abbiamo visto prima siamo giunti alla fine della lezione di oggi dove abbiamo visto tre concetti importantissimi le istruzioni che cos'è una variabile e che cos'è un metodo con questi concetti li abbiamo applicati in un semplicissimo in un semplicissimo programma che chiede il nome di chi sta usando il computer e saluta indietro ci vediamo nel prossimo video per parlare di altri concetti base della programmazione in particolare capiremo che cos'è la programmazione ad oggetti